Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sui glitch di Bagnite Scopettiamo che riesco ad andare sotto la mappa, sotto al cavo Che cosa ne dite voi? Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e vediamo se riesco a fare questa impresa insieme a voi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti